Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò migliore in 5 anni, sono le 11.13, oggi in realtà non ho scuse per il ritardo di registrazione perché la mia mattinata è iniziata molto, molto lazy, quindi mi sono svegliato tardi perché oggi mia moglie ha portato la figlia all'asilo di conseguenza siccome ero in debito di, in chiaramente debito di sonno perché gli ultimi giorni ho dormito poco e ho scritto tanto e ho, ero appunto molto stanco, ho detto vabbè domani dormo un po' di più, quindi mi sono svegliato alle 9.15, wow dopodiché classiche cose, sistemare un po' carico, accendere il fuoco eccetera eccetera, siamo qui alle 11.15 ma in realtà succede sempre così quando il pomeriggio devo partire per Milano perché non so mai organizzarmi bene per saper l'ora di partenza, poi oggi che sono anche con Davide sono ancora più in ansia di prestazione per l'orario quindi diciamo che è sempre difficile concentrarsi quando, almeno per quanto mi riguarda, quando ho un impegno al pomeriggio mi ricordo, e questa cosa forse me l'ho già detta quando andavo all'università, che avevo la lezione, occhio questa cosa qua la lezione è l'undici e mezza, tipo 11.45, mi ricordo comunque un orario assolutamente stronzo quindi dici beh cioè mi sveglio presto, faccio colazione, magari va a fare una passeggiata per dopo dare arrivo a scuola prima, così studio, e invece era la lezione più difficile da incastrare per i miei ritmi perché o mi svegliavo presto e poi bestemmiavo fino a che iniziavo la lezione oppure mi svegliavo tipo 20 minuti prima, tanto abitavo a 10 minuti in bici dall'università quindi mi cambiavo il volo, rifacevo il letto buttando il piumone sopra le coperte in mano che era sempre fatto perfetto e si partiva via il volo, ma era veramente incredibile cioè l'organizzazione mi ha sempre dato fastidio a organizzarmi sapendo di avere un impegno il giorno dopo a un orario che non è consono ai miei ritmi e che è un po' fuori dallo standard però questa cosa qua non lo so se sia solo mia o se anche vostra il fatto di avere qualche problema organizzativo su determinati orari, magari fatemelo sapere sul gruppo Telegram perché può essere interessante sia quello ma anche sapere come lo risolvete perché è successo anche che le settimane scorse è venuto il pittore per pitturare parte di casa al piano di sotto e niente, lui arrivava alle 8, io so che alle 8 dovevo svegliarmi, aprire il cancello e andare sotto a aprire la casa e questa cosa mi faceva dormire con l'ansia, non so per quale ragione però veramente, cioè il sopra di dovesse venire presto perché arriva qualcuno mi mette un po' di agitazione, questa qua è una cosa veramente assurda però è interessante anche da analizzare perché, ok, la prendiamo per quello che è quindi succede che c'è questa cosa qua quando vengono delle situazioni, ok, ma perché? perché poi alla fine tu puoi avere sicuramente un sacco di problemi un sacco di situazioni che ti mettono in difficoltà, no, e ci sta la cosa utile arriva quando tu dici, va bene, ma perché c'è questa cosa qua che puoi capire il perché e a quel punto puoi andare per due strade dire, vabbè, così è, così rimane, oppure puoi dire, vabbè, sai cosa cerchiamo di migliorarla andando avanti, cerchiamo di far sì che sia utile alla mia crescita e che questa cosa non capiti più, no, quindi ragazzi se avete delle discussioni a riguardo, se questa cosa che vi ho appena detto vi fa risuonare qualcosa, fatemelo sapere su un gruppo Telegram perché è sempre molto interessante, lascio il link in descrizione oppure potete venire su diventerami appunto di slash Telegram detto questo, ieri appunto ho pubblicato il tredicesimo articolo credo che arriverò a quota 15 e poi prenderò qualche giorno di pausa perché se no esplodo, ma non di pausa totale, di pausa meditativa, rivisitativa di quello che ho già fatto, giusto per essere produttivo ma non sempre sulla stessa cosa, se no rischio veramente di fotterli posso tenere duro per ancora febbraio, marzo ci può servire a 45 articoli sicuri, ma poi sicuramente svalvolo quindi meglio stare così, stare tranquilli e programmare ecco la programmazione è quella che attualmente mi manca non la programmazione della giornata, ma la programmazione ad esempio degli articoli perché è intelligente scrivere articoli e ancora più intelligente scriverli su dei temi che sono sensati e che possono portare un sacco di traffico con un sacco di guadagni, quindi questa cosa qua non l'ho mai fatta perché ero sempre preso da là, devo fare, devo fare, devo fare però adesso che capisco che le cose stanno iniziando a migliorare devo andare a agire con intelligenza quindi prendermi del tempo per studiare non è tempo buttato via, è tempo anzi investito che mi ritornerà con gli interessi quindi diciamo che ormai oggi non so se riuscirò a terminare l'articolo domani e dopo domani che è giovedì e venerdì faccio gli ultimi due, quindi dalla settimana prossima siamo un po' più tranquilli ma vediamo cosa succede dai detto questo iniziamo con l'episodio di oggi che alla fine lo registro da casa appunto perché oggi vado a Milano con Davide quindi non so cosa succederà magari gli proponga di fare un episodio live del podcast così vediamo cosa ci dice se no facciamo l'episodio del ritorno con lui così ci racconta le sue opinioni a riguardo allora in realtà quello che voglio dirvi oggi è una cosa interessante che mi è successa nei giorni scorsi la settimana scorsa anche ovvero io ho una termocucina come vi ho già detto che ho buttato dentro regna e scalda tutto a casa quindi scalda anche i termosifoni e anche l'acqua che si usa che esce i rubinetti eccetera cosa è successo? nel senso che c'è da 5 anni quindi c'è da sempre in realtà lo usiamo da 5 anni ovvero quando siamo trasferiti qua ma la cosa che mi stupisce è il fatto che consuma come uno shuttle cioè butti dentro legna a oltranza e le continua a scaldare poi succede che in cucina dove c'è ci sono picchi di 26-27 gradi mentre nel resto della casa sì c'è caldo però non caldisso quindi tu in realtà vaghi e hai una stanza dove ci sono 20 gradi magari in bagno c'è più freddo ce ne sono 19 in cucina ce ne sono 26 quindi è sempre un disagio totale non girare per questa casa e comunque io fino a poche settimane fa giravo in maniche corte giusto per dire quanto era diseguale la temperatura tra interno e esterno cioè l'inverno in maniche corte ok che è stato un inverno caldo però ha voglia di girare in maniche corte se non che per curiosità un giorno ho analizzato è una stufa dell'80 quadro è più vecchia di me credo questa stufa qua ho analizzato l'unica levetta che c'è c'è una rotellina con dei numeri disegnati su ho provato a guardare cosa servisse e mi sono ricordato che mio papà mi ha detto che serviva per dare diciamo per limitare il fuoco quindi se tu la mettevi su 9 c'era uno sportellino che fa entrare l'aria che era sempre aperto in sostanza se tu la giravi su 6 7 5 lo sportellino si chiudeva a una temperatura più bassa quindi in realtà la stufa la termocucina scaldava molto meno l'abbiamo provata per due giorni ragazzi e ci siamo resi conto che siamo stati stupidi per 5 anni perché adesso la temperatura è fissa a 19 gradi e mezzo 20 gradi si sta da dio cioè c'è frescolino rispetto a prima ma si sta veramente bene e soprattutto si consuma molta meno legna chiaramente perché brucia più lentamente in quanto lo sportellino tende a chiudersi e il fuoco brucia più lentamente però veramente cioè è una figata assurda pensare che ha quasi 40 anni questa termocucina e funziona alla grande cioè il fuoco non muore mai però rimane sempre una fiammella poi il portellino si riapre eccetera eccetera altro che adesso sì le cose che elettroniche digit poi si guastano non va più la scheda madre la scheda madre qua c'è solo pezzi di ferro di lamiera e robe saldate e però è molto probabile che non si vada mai a guastare e quindi volevo solo appunto riflessere fare una riflessione sul fatto che magari tu sei abituato ad avere una cosa che usi tutti i giorni che non ti va bene come funziona magari ti lamenti vorresti anche cambiarla ma non ti sei mai preso la briga di andare a analizzare il suo funzionamento perché magari non ha opzioni ma l'unica opzione che è quella che ti svolta quella che ti risolve perché alla fine se il tuo problema è comune è molto probabile che la gente ci abbia già pensato questo può essere per una stufa può anche essere ad esempio per non so un plugin di wordpress lo installi lo usi da 5 anni e vedi che non ti va più bene inizia a cercare delle alternative poi però per sbaglio ti imbattino un articolo che dice che quello che hai installato tu puoi farlo tranquillamente basta attivare un'opzione allora tu dici sono stronzo perché potrei attivarla 5 anni fa e mi sarei risolto un sacco di problemi in realtà purtroppo siamo portati come dicevo ieri tra l'altro riguardo a internet siamo portati a tirare avanti la situazione finché proprio non se ne può più e allora lì ci andiamo ad informare e quindi appunto voglio sapere anche la vostra riguardo se vi è successo qualcosa che avete scoperto una funzione o un qualsiasi tipo di situazione dove se l'avete scoperto anni prima avrebbe risolto un sacco di problemi e avrebbe fatto vivere una vita un po' più un po' più rilassata comunque fatemelo sapere sul gruppo telegram detto questo ragazzi l'installazione della fibra è entrata a buon fine la velocità è quadruplicata quindi questa cosa ci piace in realtà pervade il problema che ogni tanto si sconnette ma il tecnico mi ha detto di provare se si sconnette è perché appunto il cavo è rovinato da qualche parte di conseguenza bisogna intervenire ma bisogna fare segnalazioni di guasto allora interviene la telecom subappalta e arriverà qualcuno a sistemare quindi vedremo cosa succede per adesso siamo qua siamo soddisfatti quindi ottimo così poi anche bello che questo internet si può pagare con modifico bancario dopo 12 mesi quindi non c'è più la debito mensile ma c'è una debito annuale che può essere vista in due modi diversi uno è che c'è la rotuna di coglioni perché poi ti trovi a prendere costa 30 euro al mese e ti trovi spendere 360 euro in una botta sola è una rotuna di palla in realtà visto da un altro punto di vista tu hai gratis una connessione che ti può permettere di essere produttivo per un anno e questa cosa è tantissima poi ovviamente se è una connessione che oggi sono per guardarti le tue cose e far cose di svago non ti cambia anzi forse ti conviene avere la debito mensile però usandola per produttività per creare qualcosa effettivamente per una questione proprio di flussi di cassa banale pagarlo fra un anno cavoli mi conviene alla grande perché io ho un anno di tempo per farla fruttare quindi è veramente interessante questa cosa qua che non avrei mai fatto se avessi scelto questo internet questo metodo di pagamento un anno fa avrei detto mensile mensile tutta la vita tanto cosa vuoi che cambi e in realtà avere un prestito diciamo di 360 euro perché poi devi pagare dopo un anno è molto interessante quindi anche questa è un'altra riflessione che vi butto da ragazzi bene sono già con migliorare in cinque anni noi ci sentiamo probabilmente stanotte con l'episodio del rientro e niente forse anche nel pomeriggio con Davide ma vediamo perché abbiamo delle cose di cui discutere quindi non lo so cosa succederà di sicuro stanotte pubblicherò domani mattina quindi ragazzi sono Giacomo migliorare in cinque anni ci sentiamo ah se siete a Milano sappiate che stasera noi siamo là quindi scrivete su gruppo telegram e ci possiamo incontrare bye bye